Poco fa, attraverso Twitter, il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha annunciato che farà anche lui il suo discorso di fine anno. Accanto all'annuncio, Grillo mostra l'immagine, la vedete, di due spettatori seduti al cinema, terrorizzati davanti ad un film e la didascalia che recita il discorso di fine anno di Beppe Grillo. Parole che ti faranno teremare e poi lancia l'hashtag Io Guardo Beppe.